Per venire al tapin decisivo, allora Daddi con grande rabbia recupera questo pallone al limite, lo scambio con Stamilla, Daddi il sombrero col sinistro e un altro euro goal per Pietro Daddi, due in tre giorni, è arrivata anche la perla che abbiamo chiamato a gran voce pochi minuti fa. Il quarto goal è firmato Pietro Daddi ancora una volta, è uno splendido capolavoro di tecnica, abilità, forza, tenacia e agonismo. 4-1 per la Carlins e se mai qualcuno avesse pensato a una partita riaperta con questo goal possiamo tornare tranquillamente.